Lavoro tanto, guadagno poco e odio tutti. Devo cambiare lavoro. Ma sei pazzo, figlio, con questa crisi che è per lavoro. Tienetelo stretto. Forse non hai capito. Io rischia che faccio una strage. Diss'andassi a un psicologo? Lo psicologo nel 2015? Ma quando mai, figlio? Parlo con me, ci conosciamo da 20 anni. Noi siamo amici, parlo con me. Che posso fare? Guarda, mia cugina aveva la stessa cosa tua. Stava un po'... Sai che ha fatto? È andato su internet e ha risolto. Tu che c'hai? Sono arrabbiato. Bravo, prendi il telefono. Prenditelo. Scrivi, sono arrabbiato. Che è uscito? Sempre arrabbiato? Cerca la tua morbidezza. Brava morbidezza, Fili. Io ti avevo troppo teso, troppo... Devi stare più sciolto. Vai, sciogliti. Più sciolto. Esagera? E allora? Come va, eh? Meglio. Molto, molto meglio. Ha, 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 ha!